Ciao padre, sono emozionato, sono emozionato, e sì perché oggi, oggi è il mio primo giorno, e sì, la mia prima confessione, la mia prima confessione, mi sono preparato a casa, mi sono preparato, ho fatto tanti peccati, tanti peccati, peccatini, tutto quanto, e ho detto tante parolacce, ho detto, niente, ho fatto arrabbiare i genitori, tutto quanto, ti prego sappi perdonarmi, ho anche imparato l'atto di dolore a memoria, per essere pronto, mio Dio mi petto ogni dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meridato i tuoi pastichi, e molto più perché ho fatto a te infinitamente buono e degno di essere amato, sopra ad ogni cosa, propongo, con tuo santo aiuto, di non offenderti mai più, e di fuggirlo che sembrassimo di peccato, signore mi ricorda perdonare, grazie padre della soluzione, padre Cappuccino, sono emozionatissimo, l'emozione della prima comunione, grazie, no della prima confessione, scusa, ho sbagliato, l'emozione mi tradisce, grazie padre comunque, sei bravissimo, grazie ancora.